Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del corecomo Piemonte Oggi vi presentiamo Conf Cooperative Cultura, Turismo e Sport A livello nazionale sono oltre 1200 le imprese cooperative che operano in questi settori Gestione e valorizzazione di beni culturali, sport, tempo libero, scuole, turismo, spettacolo, editoria Davvero un mondo eterogeneo e variegato e in particolare crediamo nell'impresa cooperativa L'impresa cooperativa che come amiamo dire noi mette al centro le persone, il profitto e al servizio delle persone In questi settori si può, si deve fare impresa, imprese culturali e creative e oggi vi presentiamo qualche eccellenza La cultura io credo debba essere una risorsa, una risorsa da trattare al pari alle risorse minerali, ambientali, alimentari Quindi da costruirci una filiera, una filiera imprenditoriale con delle ricadute economiche e lavorative Mi piace molto quando si parla di impresa culturale e ancora di più quando si parla di industria culturale Ma faccio un passo indietro, parlo anche di formazione ed educazione Non ci deve soltanto essere l'impresa culturale ma ci deve essere anche una cultura dell'impresa La Fabbrica dei Suoni, cooperativa sociale che aderisce a Conf Cooperative Ha immaginato proprio di divulgare, valorizzare il patrimonio culturale, immateriale, musicale Attraverso metodologie laboratoriali, esperienziali per un target specifico Dall'infanzia fino alla terza età 15 anni di attività, 15 anni di lavoro, di sport, di progettualità 15 anni di tante soddisfazioni in cui siamo riusciti a reggere il sistema Anche dopo una pandemia che ovviamente è stata dal punto di vista lavorativo disastrosa Ma che ci ha permesso nuove idee e di arrivare anche a una transizione digitale Che speriamo possa essere in qualche modo anche un ramo sostenibile dell'azienda Editoria e cooperazione Il nostro lavoro è stato quello di unire tante voci diverse Per fare in modo che nel momento della ripresa del periodo post-pandemico Ci fosse la possibilità di creare iniziative e manifestazioni Abbiamo partecipato con molte realtà cooperative, editoriali e non Per esempio al Salone del Libro di Torino E che è stata un'ottima vetrina per raccontare il nostro lavoro Sono presentati progetti importanti come le piccole bibo, le biblioteche di boschi Che ormai si possono trovare in decine di luoghi nel Piemonte Questo ha fatto sì che oltre che una vetrina ci fosse la possibilità di discutere Riguardo a come risolvere i problemi in un periodo come questo Una delle realtà è la casa editrice di scrittura pura per cui lavoro Una casa editrice è nata ormai vent'anni fa nelle colline dell'Astigiano E che all'interno del suo catalogo raccoglie voci da tutta l'Europa Voci che vanno a trattare di problemi sociali, problemi di diritti umani E che vengono però affrontati con l'occhio della narrativa Sentire parlare ad esempio da uno scrittore di condizione femminile Di parità di genere, di problemi di incarcerazione A diverse latitudini come il nord dell'Europa, il Portogallo, la Turchia Permette di avere una visione ampia sul nostro continente E di creare veramente non solo una comunità di lettori Ma una comunità di cittadini Come avete iniziato a scoprire, i cooperatori che operano nei settori cultura, turismo e sport Sono qualificati, competenti e appassionati Fare impresa in questi settori si può Siamo con Roberto Sardo, presidente Ammil Piemonte L'associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro Vogliamo partire con una domanda che riguarda l'evento annuale più importante Per l'associazione che ricade nella seconda domenica di ottobre La giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro Che ha avuto, come sempre l'alto patronato del Presidente della Repubblica E il patrocinio della RAI che, grazie alle testate giornalistiche regionali Ha seguito le manifestazioni svoltisi in tutta Italia Come anche quelle che si sono svolte in Piemonte Di che ricorrenza si tratta? Beh, si tratta di questa manifestazione La nostra giornata per la celebrazione delle vittime sugli incidenti sul lavoro E che quest'anno è giunta la settantaduesima edizione Viene organizzata su tutto il territorio nazionale E per quanto riguarda la regione Piemonte È stata celebrata a Torino Poi ad Alessandria, ad Asti, a Biella, a Cuneo, a Novara, a Verbagna E anche a Vercelli A questa manifestazione che, appunto, come dicevamo prima Per noi è di primaria importanza Hanno partecipato, oltre agli invalidi delle loro famiglie Anche le autorità cittadine Questa giornata per noi non vuole essere solo una commemorazione Ma vuole essere un'occasione per sensibilizzare E mantenere sempre alta l'attenzione sia dell'opinione pubblica Che delle istituzioni sul dramma degli incidenti sul lavoro E vogliamo anche portare l'attenzione su due temi Che per noi sono fondamentali E ci stanno particolarmente a cuore Sono la vita e la salute dei lavoratori E la tutela dei diritti Che sono previsti per le vittime degli incidenti sul lavoro Infatti puntiamo a chiedere che sia garantita Una migliore tutela Per le vittime sul lavoro E alle loro famiglie Affinché possano superare al meglio Il dramma in cui improvvisamente si trovano catapultati Sia per quelli che restano Invalidi Permanenti Sia per quelli che per causa dell'infortunio Perdono la vita E quindi oltre alle tragiche condizioni psicologiche In cui si vengono a trovare i familiari A volte devono anche affrontare difficoltà economiche Oltre alla tutela delle vittime del lavoro L'associazione si occupa anche di promuovere La prevenzione dei luoghi di lavoro Cosa fate nello specifico? Da oltre vent'anni portiamo i nostri testimonial Nelle scuole e anche nelle aziende E contribuiamo a stimolare l'attenzione degli studenti e dei lavoratori Verso una formazione che spesso risulta inefficace Parliamo di infortunati sul lavoro Che arrivano appunto nelle aziende o nelle scuole Raccontano la propria vita La propria storia di vita Appunto agli studenti e ai lavoratori E mettiamo in campo circa 10.000 volontari Che sono attivi su tutto il territorio nazionale E sono pronti a mettersi a disposizione Per far sì che ad altri non succeda Quello che hanno vissuto loro sulla propria pelle Il fatto che la nostra associazione Abbia sedi in tutte le province della regione Come del resto anche in tutto il paese Ci consente di recarci un po' ovunque Senza particolari problemi Quindi ci rivolgiamo appunto alle scuole Di ogni ordine e grado alle aziende Affinché ci contattino per conoscerci E ovviamente per avviare questi momenti davvero toccanti Che abbiamo verificato di persona Sono molto efficaci Basta telefonare al numero verde gratuito 800-180-943 Oppure consultare il sito www.anmil.it Quali sono le ultime e più importanti iniziative Che l'anmil sta portando avanti nella regione Piemonte? Allora faccio una premessa In Piemonte sono circa 30.000 le persone con disabilità da lavoro Per venire in conto appunto a queste persone Tra le numerose iniziative che abbiamo in atto In particolare mi preme annunciarne una A luglio è stato firmato un protocollo Tra l'INNAIL e l'AMNI in Piemonte Che vuole rilanciare la formazione e il collocamento mirato Delle vittime degli incidenti sul lavoro L'impegno delle parti sarà rivolto a diffondere Su tutto il territorio regionale Le informazioni relative alle prestazioni Ai servizi erogati a favore delle persone con disabilità da lavoro Ed attivare appositi percorsi formativi Avendo preventivamente individuati i bisogni dell'utenza Attraverso un monitoraggio Questo viene fatto da parte dell'INNAIL Entro la fine dell'anno Verranno definite le modalità operative In modo da poter far divenire operativo Questo protocollo già dall'inizio del 2023 Bene, ringraziamo il Presidente di AMMI in Piemonte Roberto Sardo Un saluto a tutti Io sono Marco Bongi Il Presidente dell'Associazione Pro-Retinopatici e Ipovedenti Oggi vorremmo dedicarci ad illustrare sinteticamente L'alfabeto Braille Ovvero il metodo di lettura e scrittura Universalmente utilizzato dalle persone non vedenti In tutto il mondo Questo metodo fu ideato dal grande educatore francese Louis Braille Nato nel 1809 e morto nel 1852 Non fu però il primo tentativo di far leggere e scrivere i non vedenti Prima di lui si usava, come può essere intuitivo Riprodurre le lettere normali in rilievo Braille invece ebbe un'idea diversa Cioè quella di costruire un codice molto semplificato Composto per ogni carattere al massimo da sei puntini Allineati a due per due Un po' come per fare un esempio molto semplice La scatola delle sei uova che si compra solitamente al supermercato E all'interno di questa casella si possono variamente combinare i sei puntini In totale si riescono a raggiungere 64 combinazioni Perché qualcuno si potrebbe chiedere Si scelse un metodo come questo e non quello più intuitivo di riprodurre caratteri in rilievo Semplicemente perché il senso del tatto funziona in modo diverso rispetto alla vista Per identificare ad esempio una O riprodotta normalmente in rilievo Bisogna far girare il dito in rotondo per capire che è un cerchio O la I una stanghetta o la M con tutte le sue curve Invece questo metodo ideato da Louis Braille consente di leggere Semplicemente facendo scorrere le dita da sinistra a destra sul foglio Senza doversi spostare ulteriormente Quindi una lettura molto più sciolta, molto più agile Ovviamente il povero Louis Braille incontrò molte difficoltà Ad imporre questo sistema che sembrava quasi un codice segreto Quindi visto con sospetto ai suoi tempi come anche successivamente Però il risultato finale era che in questo modo i non vedenti riuscivano a leggere Quasi come le persone vedenti Mentre con i metodi precedenti la lettura era molto più difficoltosa Per questo oggi, ancora oggi che abbiamo la tecnologia Abbiamo le sintesi vocali Abbiamo tutta una serie di dispositivi moderni L'alfabeto Braille rimane comunque sempre il modo di percezione dell'informazione Più simile ad una vera e propria lettura oculare Per questo ancora oggi, anche se purtroppo nel nostro paese è meno conosciuto Continuiamo a sostenere che vada sensibilizzata sia l'opinione pubblica Sia il mondo della scuola, il mondo degli educatori Perché venga trasmesso questo metodo che può essere anche sussidiario ad altri sistemi Però rimane comunque sempre indispensabile Probabilmente molti ascoltatori avranno avuto occasione di vedere le impressioni Braille O sui tasti degli ascensori o sulle confezioni delle medicine Ecco, magari utilizzando una semplice tabella di conversione Si potranno esercitare nel cercare di interpretare le scritte che vengono riportate Quindi imparare l'alfabeto Braille che è un alfabeto, non è una vera e propria lingua Quindi si può apprendere abbastanza semplicemente Questo può diventare anche un gioco, può diventare anche un modo divertente per potersi mandare dei messaggi da uno all'altro In realtà è anche la storia del Braille deriva anche da questo Presso la nostra associazione è possibile approfondire questi argomenti Organizziamo dei corsi e siamo a disposizione per spiegare meglio la realtà dell'alfabeto Braille Vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime trasmissioni Pace e bene a tutti, a quelli belli e lo siamo tutti Sono il parroco di Candiolo, Don Carlo Chiomento Vengo a parlare di una realtà importante per la vita di tante persone, famiglie che arrivano da tutta Italia E al momento da 28 paesi dell'estero Accogliamo nella casa di accoglienza Che abbiamo costruito a Candiolo Le persone malate e i loro familiari, i loro parenti Che fanno le cure nel vicino ospedale, l'IRCC di Candiolo La nostra storia comincia nel 1999 Quando ho scoperto che una famiglia, i parenti dormivano in macchina E questo ha creato in me un problema O meglio, una occasione di riflessione L'ho considerata come una telefonata del Padre Eterno Che mi dice, mo, dove vado a dormire? Ecco, è nata la casa di accoglienza La nostra storia si articola in tre precisi momenti Il primo momento è stato quello della risposta alle emergenze Abbiamo ospitato malati e parenti In alloggi di fortuna, così E intanto abbiamo progettato col Cardinal Poletto La costruzione vera e propria della Madonnina Nasce allora la seconda fase Ed è stata l'accoglienza alla Madonnina In questi anni dal 2007 Quando in pratica abbiamo accolto le prime famiglie In questa struttura nuova Ad oggi ci sono stati 129 mila pernottamenti Sono persone che arrivano e che hanno bisogno di una comunità Di persone che stiano loro accanto E noi ci diamo da fare per supportare I loro bisogni pratici I trasporti, dove comprare la roba, eccetera E adesso nasce la terza fase La legge ha richiesto di passare da ONLUS A ente del terzo settore E allora durante quest'anno abbiamo fatto una fondazione La fondazione La Madonnina ETI Ente terzo settore Ci siamo messi assieme ad un'altra fondazione La fondazione Martoglio Perché vogliamo allargare il nostro orizzonte di accoglienza Non solo alle persone che vengono a Candiolo per curarsi Ma anche alle persone che in altre strutture ospedaliere Di Torino e della Cintura Hanno questo bisogno di indicare ai malati e ai parenti Una struttura dove dormire quando i malati fanno le cure Allora questa fondazione Incomincerà la sua attività A partire dal primo gennaio del 2023 E quindi è la terza fase della nostra storia Ovviamente cambia il nome Non più accoglienza ONLUS Ma fondazione ETI Ma la sostanza non cambia Continueremo ad accogliere parenti e malati A stare loro accanto Ad ascoltare i loro problemi A vivere insieme con loro Questo pezzo importante della loro vita Chiaramente stiamo allungando Allungando le nostre disponibilità Adesso si tratta di costruire altre 19 stanze Ed è il motivo per cui sono qui Vogliamo raccogliere tanti volontari Abbiamo bisogno di un centinaio di volontari in più Quindi per piacere Se avete del tempo e tutti abbiamo un sacco di tempo Diamoci da fare Venite alla casa di accoglienza Venite a visitarla Raccogliete i tappi Però venite a fare i volontari Grazie, pace e bene a tutti A quelli belli E lo siamo tutti L'argomento di cui vorremmo parlare oggi È l'autismo Tutti avranno sentito parlare dell'autismo Ma non molti sanno esattamente di che cosa si tratti L'autismo o disturbo dello spettro autistico Viene riconosciuto come disturbo E disabilità del neurosviluppo Che dura tutta la vita Ed è caratterizzato da un deficit permanente Di comunicazione e di interazione Con l'impianto sociale che c'è intorno Il fatto che venga definito come spettro Significa che la distribuzione della frequenza Di un dato comportamento problematico Varia nel tempo e nell'intensità nella sua manifestazione Vale a dire che ci sono moltissimi modi Per esprimere questo stato di difficoltà La diagnosi di disturbo autistico È stata definita e classificata In base alla difficoltà di interazione Appunto con le persone E con l'ambiente circostante della persona disabile Nonché rispetto ai comportamenti Che possono anche essere ripetitivi e stereotipati Esistono tre livelli di autismo Il primo, il secondo e il terzo Il primo è quando la compromissione è lieve Ed è molto circoscritta Alla parte linguistica e cognitiva Il livello 2 che ha Vede invece una compromissione più ampia E il livello 3 dove si associano anche Comportamenti e problemi di importanza Piuttosto rilevante Ci sono dei falsi miti riguardo all'autismo Che vale la pena di affrontare e sfatare Primo, l'autismo passa con la crescita No, l'autismo è una disabilità che è persistente Rimarrà sempre, da quando viene diagnosticata in avanti Rimarrà comunque presente nella vita E nella difficoltà delle persone Possono esserci delle azioni Che possono supportare la persona autistica E far superare alcuni comportamenti Alcune situazioni di difficoltà Ma alla base lo scompenso Continua ad esserci da sempre Da quando viene definita Fino alla fine della vita Non esistono terapie che facciano passare l'autismo Esistono terapie di supporto Soprattutto quando ci sono problemi Di tipo comportamentale E di aggressività Per cui abbassano questo tipo di Comportamenti e di espressioni Ma nel momento in cui la terapia viene dismessa Ritorna come prima Qualcuno dice che i bambini autistici Sono sicuramente dei geni È vero che gli autistici hanno Da bambini o anche da adulti Hanno alcune predisposizioni Specifiche dovute al funzionamento Del cervello autistico Molti sono orientati per esempio Alla matematica o alle funzioni tecniche E le sviluppano in maniera molto importante Perché la capacità di concentrazione O di fissazione dell'attenzione Su quell'argomento È molto più alta rispetto al resto Che invece deve essere supportato Perché ha degli scompensi L'autismo è dovuto all'inquinamento Ai metalli pesanti o quant'altro? No, l'autismo non è dovuto sicuramente A situazioni di chimica di questo tipo Le cause non sono ancora state accertate In maniera definitiva Ma sicuramente bisogna andare oltre Occorre che ci sia una diagnosi precoce Perché l'intervento prima si fa Meglio è nel risultato Sicuramente bisogna intervenire Con interventi cognitivo-comportamentali Perché danno risultati migliori Quello che noi rileviamo È che ci siano delle false cure Che vengono date come miracolose E non lo sono Quindi una preghiera Inquadrate l'autismo per quello che è E supportate le persone autistiche I programmi di Rai3 Riprendono ora a diffusione nazionale Buona visione Grazie a tutti Grazie a tutti